Ciao a tutti da Vittorio, il calciomercato, la finestra di calciomercato si è chiusa solamente ieri sera ma si continua a parlare di mercato perché? Perché adesso ci sono ancora tanti svincolati che si possono tesserare. Uno di questi è David Luiz, qualcuno ieri nella diretta l'ha proposto più volte, ha detto per risolvere il problema difensore centrale la Lazio potrebbe prendere David Luiz. Pensavo fosse impossibile e invece la Lazio ieri sera ha proprio contattato il brasiliano, Sarri e Lotito si sono sentiti dopo la chiusura della finestra del calciomercato ed è uscito il nome di David Luiz. Sarri ne ha parlato molto bene, ha detto che l'ha allenato al Chelsea che fra i due il rapporto è ottimo, che Sarri valuta molto David Luiz e per questo la Lazio ha provato a contattarlo. Non è un'operazione facile perché David Luiz è in trattativa col Flamengo che vorrebbe riportarlo in Brasile. In più c'è Benfica che ha contattato il giocatore, Benfica ha diciamo la forza di essere in Champions League e quindi potrebbe attrarre il giocatore perché potrebbe tornare a giocare in Champions. La Lazio ovviamente questa possibilità non ce l'ha perché la Lazio è in Europa League, però sicuramente c'è il rapporto con Maurizio Sarri. David Luiz ha difeso Sarri nei momenti difficili al Chelsea, i due si stimano per cui ci potrebbe essere questo approdo. David Luiz ha uno stipendio importante, ovviamente se viene la Lazio probabilmente dovrà ridursi lo stipendio. È un giocatore di grande esperienza, però è un giocatore che l'Arsenon non gli ha rinnovato il contratto. Insomma è un giocatore secondo me che a 34 anni abbiamo già visto il meglio, però se arriva come riserva potrebbe essere una soluzione. Adesso non so quanto David Luiz voglia venire alla Lazio a fare panchina, però potrebbe essere una soluzione interessante anche se parliamo di un difensore che forse è un po' simile a Patrick perché come Patrick tende a sbagliare tanto. David Luiz è un grande giocatore di piedi, bravo, un centrompista arretrato potremmo dire, è forte di testa, è abbastanza veloce, però tende a sbagliare tanto e questa è la mia più grande preoccupazione. Soprattutto è un calcio italiano molto meticoloso in fase difensiva, David Luiz non mi sembra la cosa migliore. Certo, ripeto, come panchinaro potrebbe essere una soluzione adattata alla Lazio. Ovviamente è una trattativa difficile perché David Luiz prende tanti soldi, perché il Benfica e il Flamengo sono avanti nella trattativa, però che dire, ieri vi ho detto che a mio avviso manca il difensore centrale, David Luiz non sarebbe il mio sogno, però sicuramente aumenta la qualità. Diciamo che David Luiz è sicuramente meglio di Patrick, per cui sarebbe sicuramente un upgrade per la Lazio. Sare andato su un profilo più giovane, ovvio, quando vai sui svincolati di solito ti ritrovi gente un po' in lacco gli anni. Detto questo, David Luiz è ancora integro fisicamente, è un giocatore che fino all'altro ieri ha giocato a livello alto, perché è giocato nell'Arsenal, per cui è un giocatore che, come dire, non è come è successo in passato che la Lazio ha preso giocatori già finiti, mi viene in mente Salah, giocatori che ormai erano già fisicamente cotti. Invece David Luiz è un giocatore fisicamente che c'è. Mi preoccupo un po' la tenuta mentale, però se Sarri garantisce per lui e se soprattutto viene a fare un po' la chioccia, il panchinaro pronto a giocare, conscio che purtroppo David Luiz Felipe è un giocatore che purtroppo non ti gioca tutto il campionato e quindi che giocherà tanto, potrebbe essere una soluzione interessante. Non mi fa impazzire, però come riserva sarebbe una soluzione intelligente. Voi che ne dite scrivete i commenti qua sotto e mi raccomando, se non l'avete fatto, iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!